olio e uno spicchio d'aglio facciamo un soffritto di pomodorini ma giusto un paio e peperoni rossi aggiungiamo giusto un pizzico di peperoncino allora qui ho messo del macinato di maiale dei cubetti di prosciutto cotto ho fatto il pangrattato con le sette biscottate integrali un pizzico di pepe un pizzico di sale un pizzico di noce moscata giusto un paio di cucchiai di latte un po di formaggio grattugiato un uovo e se volete un po di prezzemolo io non lo metto quando il composto sarà ben compatto andiamo a formare delle polpette adesso facciamo cuocere le nostre polpettine da entrambi i lati poi mettiamo un goccio d'acqua copriamo il tutto e lasciamo cuocere a poco lento per circa una mezz'ora eccole qua e adesso copriamo le eccole qua pronte le nostre polpette con la loro salsina adesso non ci resta che impiattare e gustare buon appetito polpette con la loro salsina non ci resta che impiattare e gustare le nostre polpette con la loro salsina non ci resta che impiattare le nostre spiattare le nostre